Direi che andiamo a vedere un po' cos'è l'Investor Policy Statement. Tutto nasce da un concetto con cui sono entrato in contatto nel 2017, questo vecchio post sul mio blog che si chiama Investor Policy Statement. Non è farina del mio sacco, cioè il post sì ovviamente, ma il concetto di Investor Policy Statement è qualcosa che sono entrato in contatto forse poco prima e mi ha entusiasmato e l'ho voluto replicare per me stesso. Da dove nasce questo concetto? Nasce da un post che ho letto di The Physician on Fire che ho già qui aperto. Non è neanche farina del suo sacco, non si capisce da quale sacco nasce questa farina. The Physician on Fire era uno dei miei blog preferiti quando divoravo blog nel mondo fire, nel mondo financial independence, è molto che non parlo di fire sul mio canale, per cui forse potrei fare un piccolo recap, ma no, anche no, anche no, anche no. Ok, Fire, Financial Independence, Early Retirement, che è ciò che mi ha portato anche a investire in prima persona e a pensare un giorno di smettere di lavorare, fallendo fino adesso perché sto lavorando troppo. Però il concetto resta molto valido. Qui vedo che Nicola dice che è di Bogle il concetto di Investor Policy Statement. Non lo sapevo, non sapevo che originariamente è di Bogle. È nel piccolo libro sugli investimenti? Ok, perfetto, conferma anche Wannablesi. Wannablesi, interessante. Sono entrato in contatto con questo concetto nel 2017 o forse fino al 2016, tramite questo post. Adesso andiamo a leggere un po' qualcosa di interessante. Credo che possa essere d'aiuto a molti. Cominciare a ragionare, elaborare e scrivere, tirar giù, scrivere il proprio Investor Policy Statement. Perché, come dice qui anche Physician on Fire, un sacco di domande frequenti vedo nei forum, mi vengono chieste anche a me, anche oggi. Gente, no? Che è meglio, uno small cap o small cap value? Sto iniziando un tax deferred account? È meglio un target date o un total stock market o tre fund portfolio? Oppure, bah, ho un bonus di 10.000, 100.000, un milione, come dovrei investirlo? Tutte domande che di per sé non hanno senso. Non hanno proprio senso. Ma è meglio questo o quest'altro? Non ha quasi mai senso una domanda del genere. È sempre... La mia prima analisi è sempre sì, ma tutto il resto di te come funziona? Cioè, i tuoi obiettivi? Hai ricevuto un'eredità di 100.000? Sì, ma quanti altri soldi hai? Come li stai investendo? Quanto sei avverso a rischio o prono a rischio? Cioè, non ha proprio senso, quasi mai, prendere e lanciare un suggerimento e poi in realtà non ha neanche senso lasciare suggerimenti di investimento. Però, anche soltanto analizzare la situazione e rispondere a una richiesta del genere come se fossi io in prima persona, no? Se io avessi, non lo so, dovessi scegliere tra questi due fondi, quale sceglierei? Quanti due indici? Quali sceglierei? Dipende, cioè dipende da tutto il resto. Per cui, in generale, tutte queste domande e altre centinaia di domande simili, la risposta è sempre la stessa. Hai bisogno di un Investor Policy Statement. Cioè, che è una dichiarazione di intenti su cosa è per te il... che significa per te investire, quali sono gli obiettivi che hai, in che modalità, cosa vuoi essere esposto, qual è la tua versione al rischio, è una sorta di dichiarazione di intenti quantificata, che poi un po'... a me piace poi personalizzarla e trasformarla in uno strumento che mi fa proprio da guida, quindi in teoria anche con asset allocation dettagliata, con scelta di come fare capital deployment, quindi cosa accade se mi trovo altri... disavanzo tra stipendio, tra entrate uscite ogni mese, che faccio, quanto reinvesto, quanto voglio di fondo di sicurezza, essenzialmente è la tua strategia messa giù per iscritto, ok? Strategia che è più ampia possibile, solo che se uno va troppo in ampiezza alla fine arriva anche a parlare di filosofia del denaro, di come pianifica di crescere le entrate, di come pianifica di frugalità, troppo, lì si entra in quello che è la personal finance. Quindi a me piace che l'IPS, Investor Policy Statement, rimanga confinato all'interno degli aspetti di investimento, con minimo toccare i concetti di personal finance, che stanno al di fuori, una bolla più esterna dell'investimento, e un minimo anche di personal economy, cioè la bolla che sta al di fuori della personal finance, come gestisco le mie energie. Quando si parla di pianificare l'early retirement, c'è anche questo concetto di personal economy, per come la chiamo io. Quindi, you need an investor policy statement. Per rispondere a ciascuna di queste domande di investimento, quelle sopra, è meglio investire Tesla, che ne pensi, Tesla, Apple, Facebook, ho 10.000, che ci faccio? Oppure, che faccio, scelgo uno small cap, o bla bla bla, per rispondere a queste domande in isolamento, cioè una alla volta è problematico. La risposta specifica alla domanda dipende sempre da tantissimi fattori che in genere non vengono rivelati, tipo, chi sei tu che fai la domanda? Vorrei aiutare, ma non posso con responsabilità dirti quale fondo penso che dovresti comprare, in un particolare account, quindi se stai nel tax advantage o after tax, non so la tua dolleranza al rischio, bla bla bla, il tuo time horizon, il tuo goal. Quindi, se tu non sai queste cose per te stesso, devi prima fissarle. Ok, cos'è un investor policy statement? Un IPS è una lista dei tuoi obiettivi di investimento e strategie di investimento che incorporano la tua dolleranza al rischio, il tuo desired asset allocation e poi piani specifici per raggiungere i tuoi obiettivi. Qui vedo un piccolo schemino che è molto molto carino. Obiettivi, asset allocation, filosofia, piano di investimento, piano di drawdown, cioè come pianifico in futuro di accedere ai profitti dei miei investimenti. che si parla spesso di fase di crescita, quindi come foraggio un pack, ad esempio, mai si parla di ok, ma alla fine che faccio? Prendo tutti i soldi e scappo? Cioè, come pianifico il mio retirement? Retirement consideration. E qui ci sta l'original nel 2016 IPS di Physician on Fire. Eccoli qua, eccolo qua, drawdown, retirement e così via. Interessante, molto customizzato. Ok? Adesso magari proveremo a farlo per me stesso e suggerisco a chiunque di provare a fare un esercizio del genere. Quanto ha senso l'effort per una strategia complicata? Perché non dici semplicemente compro ETF, stocks e bond 60-40? Perché primo la stock e bond in percentuale ha senso che siano correlate alla propria avversione al rischio, alla propria orizzonte temporale e alla propria ai propri obiettivi. Quindi intanto un 60-40 è diverso da un 80-20 è diverso da un 100-0 e possono sembrare piccole variazioni, non lo sono, su un orizzonte di 30-40-50 o investing for a lifetime o investire in un fondo per le proprie figlie che hanno un anno quindi potrebbe andare avanti per 80 anni anche le piccole differenze compounded fanno un sacco di soldi. quindi ha senso. E secondo esistono altri concetti, esiste un'esposizione ai vari factor, esiste anche un po' di personal taste. Cioè se io dico ma in realtà voglio essere sovraesposto voglio avere un po' di home bias, voglio essere sovraesposto al mercato locale oppure voglio essere sovraesposto ai mercati emergenti per qualche ragione o voglio essere sovraesposto ad alcuni settori cose che non sono in genere efficienti, sappiamo, però possono avere altri vantaggi, possono avere altri vantaggi. Una esposizione home può avere il vantaggio che se ti va male il tuo portfolio va male a tutta la nazione quindi magari non sei il povero in mezzo ai ricchi. Ci sono alcune cose che non hanno senso razionalmente ma possono aver senso se pensiamo a situazioni di emergenza. Quindi sì, sicuramente sì, se hai due soldi e sei all'inizio, sei uno che deve ancora mi avviso dedicare energie alla crescita delle entrate quindi alla propria carriera può aver senso non investire troppe energie nei propri investimenti. Andando avanti crescendo il patrimonio probabilmente quando la carriera raggiunge un punto in cui difficilmente cresce ancora esponenzialmente quindi non sto concentrandomi sulla parte income e non sto neanche concentrandomi sulla parte uscite quindi il cash flow è quello lì a quel punto probabilmente gestire un po' meglio il proprio patrimonio ha senso. Torniamo a Physician on Fire cosa ha messo lui nel 2016 l'avrà rivisto diverse volte questo era il posto originale che mi aveva che mi aveva triggerato obiettivi retire early no later than age 54 senza figli cioè figli che sono già andati via e probabilmente anche prima di questo qua avere un un largo margine con 36 per annual expenses cioè quindi un safe withdrawal rate sotto il 3% e 50% maggiore 50% disponibile prima di arrivare all'età in cui puoi accedere social security è molto americano questo questa cosa qua per cui è poco interessante però nella parte obiettivi obiettivi a lungo termine ok che sono quasi sempre pensionamento anticipato o supporto alla pensione oppure mantenimento di un di un lifestyle o non lo so c'è chi vuole magari comprarsi una casa mandare i figli a scuole internazionali pagarsi cure mediche importanti obiettivi ok filosofia in questo filosofia di investimento in generale cosa voglio quella cosa è per me gli investimenti c'è chi può dire ma voglio fare stock picking value investing voglio investire in bond quando i tassi vanno su in stocks quando i tassi vanno giù filosofie possono essere tante possono essere tante filosofie in questo caso nella nell'original physician on fire investor policy statement filosofia investire in un portfolio diversificato di vanguard index fund tenendo le spese basse ok vanguard non è sta legando a un solo emettitore ok io vedremo poi non sono così legato a vanguard anche se buona parte dei miei investimenti sono con vanguard però mi piacciono i principi portfoglio diversificato di index fund quindi comprare fondi che tracciano indici e tenendo le spese molto basse ok accettare i ritorni di mercato non cercare di battere il mercato non cercare di essere più smart ribilanciare mensilmente con mensilmente ok qui il phrasing penso che intenda rebalancing with monthly investments probabilmente intende che mensilmente ribilanciare non parla di quanto immettere nuovo nella nella fase di crescita del patrimonio la mia tolleranza rischio è piuttosto alta e mi aspetto però che voglio avere un withdrawal rate sotto al 3% withdrawal rate è quanto prendere dal patrimonio ogni anno rispetto al patrimonio quando deciderò di andare in fase di decumulo in fase di withdrawal in teoria quasi tutte le formule che vedrete sui vari blog di FIRE parlano del fixed dollar spending quello in cui io parto con un target di spesa di quanto ho bisogno l'anno ho bisogno di 50.000 l'anno perfetto quello è il mio obiettivo voglio poter prendere 50.000 al primo anno e poi ogni anno 50.000 aggiornato per l'inflazione ecco Federico Bitone ha mostrato ha detto una cosa che vorrei commentare morire con zero è la cosa più difficile a me non piace non ho letto il libro Die with Zero che è diventato molto popolare ultimamente anche nel mondo early retirement non piace questo concetto non piace il concetto di morire con zero non deve essere l'obiettivo è l'obiettivo più selfish che esista non è non puoi sapere cioè sì potrebbe essere interessante nel caso uno volesse essere particolarmente selfish se potessi prevedere un po' bene quando quella cosa accadrà siccome non sappiamo quando accadrà uno dovrebbe non dovrebbe pianificare di morire con zero tutto qua trovo che sia non vivrei tranquillamente approcciando lo zero comunque perfetto andiamo avanti asset allocation la sua asset allocation ovviamente in questo caso 60% stocks 22% international far ridere questa cosa qui per gli americani stocks essenzialmente US qualche altro pezzo di altre idee di strategia ok sulle stock americane vai verso small e mid cap che potenzialmente massimizzando i ritorni a lungo termine fino al 90% dal 90% in poi da quando fama e french hanno tirato fuori lo studio sulle small cap outperforming the market non hanno più outperformato un gran che le small cap però sappiamo anche dal nostro caro amico ben felix che in realtà small cap value hanno outperformato adesso che questa formazione è nota procedissimo pure che magari è stata già sfruttata si verrà piallata e così via altre considerazioni di natura fiscale pensionistica pensione pensione tax loss arbi fiscale fiscale il 529 account fiscale ok vai così retirement health insurance part time work questa è una filosofia di vita scelta di vita e poi come prendere i soldi perfetto quindi perché hai bisogno di un investor policy statement è una bella domanda giusta good point ok devi è una parola un po' troppo esagerata ma ci sono molti benefici nel creare il proprio IPS puoi anche farne a meno ovviamente ma è meglio se tu ne abbia uno questo è il perché definisci la tua desired asset allocation questa è la propria in teoria è il punto fondamentale di un investor policy statement faccio la mia asset allocation e cerco di mantenerla io tendo anche ad aggiungere definisco la mia asset allocation e definisco anche in che modo questa cambia in che modo questa asset allocation può essere dinamica e con che frequenza faccio una major revision la mia asset allocation attuale dice x per cento stocks x per cento 1 meno x per cento bond con delle sotto allocazioni per categoria e questo x cambia nel tempo in base ad alcuni parametri tra l'esempio il cape e poi segno mentalmente con i due anni faccio una macro review della 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 strategia che potrebbe confermarla o meno quindi scrivere giù meglio se implementarla addirittura in uno spreadsheet come faccio io meglio se implementarla in uno spreadsheet così posso monitorare dove sto dove volevo andare ed eventualmente correggere il tiro però punto fondamentale definire la propria asset allocation ho visto gente che lanciava soldi in varie piattaforme ogni piattaforma rifaceva una asset allocation ah no 5.000 su money farm lì ho scelto un portfolio 5 perché sai così ho dei soldi su de giro lì ho messo più lì ho qualche stocks poi ho aperto un account con che cazzo ne so con la mia app di merda della banca e ho investito un po' più prudente sì ma qual è la overall view cioè dove stai andando che cavolo cioè ogni applicazione ha la sua asset allocation ma non hai una il tuo patrimonio è casuale non sta seguendo una linea io in genere ando a dire si definisce l'asset allocation e poi eventualmente se stai già usando investimenti che allogano in un certo modo ok andiamo a popolare qual è la tua asset allocation complessiva e quanto differisce da quella ideale e poi la portiamo può dar sicure che in un prodotto tu starai 100% in stocks ma è pericoloso sì tu vuoi stare 50-50 ma su una app stai 100-0 sull'altra stai 0-100 non serve stai su tutte 50-50 anyway possiamo dire che l'IPS è un po' un business plan un po' dai sì anche se non c'è molto business nell'IPS rientra anche il numero dei figli perché no perché no perché no sicuramente sì cioè non è che rientra il numero dei figli però rientrano delle contingenze immagino se uno non ha figli fa un piano e poi o nel piano già incorpora il fatto se dovessi avere figli cosa cambierebbe oppure si pone l'obiettivo di fare una major revision di rivederlo bene se nascono figli ok quindi perché ti può servire un investor policy statement definisce la tua asset allocation creare un investor policy statement ti forza a definire i tuoi obiettivi e a fare un piano per raggiungerli ottimo nella mia esperienza è molto piuttosto andare da qualche parte se tu non sai dove stai andando ovviamente è sempre una questione di intenzionalità nel tracciare i risparmi nel tracciare le spese tracciare il patrimonio ho intelligenza ho ho dati nel fare una nel pianificare una traiettoria per il futuro è lì ho intenzionalità finanziaria e quindi è uno step necessario secondo me un IPS farà sì che tu sia meno che sia meno probabile che tu salti da un investimento all'alto dove tira il vento quindi diciamo che avere un piano scritto fa sì che tu hai una bussola a cui aggrapparti quando ti viene voglia di fare il cazzone ok investire sulle emozioni reagire ai performance recenti reagire alle notizie finanziarie attenzione Elon Musk vende twitter fa sì che in genere queste attività diminuiscono i ritorni a lungo termine e fanno sì che raggiungere i tuoi obiettivi sia più difficile essenzialmente scrivere un IPS significa diventare il portfolio manager di te stesso quindi prendere in mano il timone finanziario della tua barca bla 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 se tu lavori con un financial advisor creare un IPS assieme farà sì che il tuo advisor capisca i tuoi obiettivi e ti potrà aiutare a investire i tuoi soldi nel modo che è consistente con i tuoi obiettivi ok interessante bla 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 andiamo su quello che era il mio IPS il mio primo IPS allora ho fatto un po' di refactoring con i link con i link con i short link quindi se andare su mr.rip slash IPS andare sul blog post che è questo qua tac da qui volendo sotto c'è una piccola il vecchio IPS deprecato con il link anche al google doc tac lo commentiamo un po' assieme in realtà è deprecato nel senso che già questo qui non è già valido oggi perché nel 2020 ho fatto una revisione essenzialmente più che altro della parte ho fatto una revisione maggiore della parte asset allocation e ho non scritto ma ho fatto anche una revisione mentale degli aspetti filosofici che varrebbe la pena prendersi il tempo per scrivere non penso succederà stasera ma varrebbe la pena prendersi il tempo per scrivere detto questo detto questo ho creato un doc che è mr.rip slash IPS trattino all che è questo qui che è l'elenco dei vari aggiornerò ogni volta che aggiungerò un nuovo IPS al momento ne abbiamo tre quello del 2017 che è IPS dash 2017 quello del 2020 che è IPS dash 2020 e questo work in progress che è quello del 2022 e questo qua se ci clicco è un documento al momento vuoto con solo versione bla 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 se in futuro se questo video verrà visto fra 20 anni ho fatto altre 20 versioni il link mr.rip slash IPS dash new è l'ultima versione in corso cliccando adesso su mr.rip slash IPS new va a quello del 2020 che non è un doc ma è un post sul mio blog comunque cosa avevo scritto nel 2017 a inizio 2017 mr.rip investor poli mr.rip s investor policy statement terminologia vabbè network saving rate withdrawal rate target fuck you money ok obiettivi raggiungere financial independence quindi patrimonio maggiore del fuck you money quindi soldi che mi servono before age 45 cioè entro l'anno 2022 spoiler spoiler l'ho raggiunto il patrimonio ha raggiunto quello che era il fuck you money nel 2017 purtroppo il fuck you money si è raddoppiato lo fanno lo fanno i figli withdrawal rate desiderato 33,3% qui stiamo ancora sugli obiettivi tipo finanziario o legati al early retirement quindi io ho messo al centro della mia pianificazione finanziaria l'early retirement potrebbe non essere lo stesso per tutti probabilmente non lo sarà e non lo sarà probabilmente nell'ips che vado a scrivere stasera se riesco a scrivere un ips invece di commentare e basta quindi l'obiettivo era raggiungere financial independence patrimonio maggiore di fuck you money 30 volte le spese annuali quindi ipotizzando un withdrawal rate del 3,33% chi mi conosce chi è seguito un po' delle mie finanze sa che ad oggi il withdrawal rate lo piazzo al 3% lo piazzavo a pi greco una volta adesso sono sceso al 3% quindi già questo l'ho cambiato nel tempo e ma lo fanno lo fanno quindi spese annuali da essere stimate non basate sulle spese correnti ma considerando fattori come 1 muovere andare via dalla svizzera si o no 2 avere uno o due bambini o più o più 3 comprare o no una casa quindi in teoria l'obiettivo era avere 30 volte le spese annuali basandomi le spese annuali ero consapevole che sarebbero potute variare era inizio 2017 non ero ancora sposato non era mia figlia sarebbe nata un anno e mezzo dopo la prima figlia e quindi ero ancora ingenuo ma si ma è bello fare i piani poi i piani sono i piani vanno e vengono i piani si fanno e la vita ci prende a ceffoni pa 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 coi piani però è importante farli senza questo piano forse non avrei iniziato a investire coerentemente con asset allocation coerente bla 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 il fattore muovere andare via dalla svizzera è ancora una variabile in piedi quindi ok quando penso a ho abbastanza soldi per i miei obiettivi mi dico sempre ma obiettivo qual è restare in svizzera o andare via dalla svizzera ad esempio tornare in italia per cui per cui mantengo in piedi due ipotesi sempre quella in cui resto in svizzera che ormai la tengo come l'ipotesi più probabile anche se non siamo convintissimi però meglio ragionare su cercare di diventare parzialmente indipendenti economicamente in svizzera con le spese svizzere che poi se questo piano cambia è solo più facile però in parallelo in mente tengo anche che dovessimo tornare in italia o andare da un'altra parte quanto quanto sarei financial independent l'obiettivo era comunque raggiungere 150% dell'effaccio money prima di 50 anni che significa che il mio piano originale era entro i 45 arrivare ad essere indipendente ma non non smettere di guadagnare ma continuare magari rallentando un po' a non consumare il patrimonio magari a farlo crescere un po' di meno però continuare a produrre per altri 5 anni dopo altri 5 anni essere nel range del fat fire ok e poi cercare di stare sempre sopra l'80% che vuol dire che se mi serve 100 per le mie spese attuali però condizioni sfavore di mercato fanno sì che il patrimonio si riduce tali che non sono più financial independent di un bel po' quindi sotto la soglia del pioltello monster sotto la soglia del 80% fai scatta un piano di contingenza che può significare che può significare ok adesso i soldi diventano importanti quindi cercare un nuovo lavoro cercare altre forme di entrata smetterla di stare in spiaggia a sorseggiare mojito ma fare qualcosa oppure rivalutare le spese quindi abbassare le spese mensili annuali e quindi riabbassare il fuck you money e così via questo era il piano nel 2017 strategia fase di accumulazione dura finché non siamo financial independent risparmiare almeno il 50% dell'income risparmiare almeno 50.000 cioè c'è un limite un lower bound di saving rate ma anche lower bound economico non mi andava bene risparmiare al 50% dell'income se avessi guadagnato 30.000 e risparmiato 15.000 no volevo comunque continuare a produrre almeno 100k l'anno ok va bene anche non andare oltre se impattasse il well being questa questo questo è interessante rileggere quello che avevo scritto è interessante è molto interessante fatemi attimo controllare una cosa qui cosa stavo dicendo stavo dicendo no matter what metà stipendio almeno va risparmiato contate che lavoravo in google in quell'epoca no matter what almeno 50k vanno risparmiati il che vuol dire che se lo stipendio diventa più basso di 100 non basta il 50% di saving rate e è ok anche non andare oltre se il 50% lo risparmio posso concedermi di spendere di spendere anche di più a meno che questo non impatta il mio well being cioè non devo risparmiare il più possibile se però mi trovo bene a a un certo livello va bene anche risparmiare l'80 al 60% va benissimo qualsiasi cosa self sustainability la mia strategia si si divideva in varie fasi quindi prima di arrivare all'asset allocation ancora ce ne manca ok sostenibilità quando siamo tra l'80% e il 120% del target fuck you money per essere financial independent una volta raggiunto la financial independence entro in una fase quella in cui sono a malapena financial independent e quindi il patrimonio in base alle spese che evolvono il patrimonio che evolve per gli investimenti fluttua tra 80 e 120% ok finché sto in questa fase c'è un overlap ovviamente qua quindi tra 80 e 100% in teoria c'è un overlap però finché non raggiungo 100% sto in questa fase qua c'è tipo un'isteresi perché conosce un po' di di meccaniche e cose varie quindi una volta che raggiungo 100% vado in questa fase di autopilota in cui comunque devo risparmiare soldi non toccare il principio lavora sporadicamente o trova altri modi di far soldi per coprire le spese quindi va bene anche stare in pareggio entrare uscite però lasciar crescere il patrimonio investito di moto autonomo ipotizzando che i ritorni a tesi siano maggiori di 0 notare che tra 80 e 100 c'è una isteresi no quello che ho detto ok sotto l'80% percentuale di oh crap citando living a fai ah living a fai living a fai il mio blog numero 1 numero 1 di personal di early retirement e early retirement off pelle d'oca sotto l'80% di fai vuol dire che oh crap quindi probabilmente devo ricominciare ad accumulare quindi saving rate maggiore di 0 un bel po' maggiore di 0 se si scende sotto il 60% la oh shit percentage allora niente piano saltato si torna a lavorare questa era la fase di self sostenibilità se si crossa 120% se si arriva a un certo livello di ricchezza allora allora seguire un po' la le citazioni di mister money mustache ok che dice prendere tutte le work and income decisions as if the wage were zero or the price tag were zero da qualche parte in questo post che ho linkato di mister money mustache che si chiama early time doesn't mean you stop working erano i posti più belli più belli e a un certo punto questo è quello che lui dichiara che mi fece proprio innamorare questa dichiarazione cerco di prendere tutte le decisioni di spesa come se il prezzo fosse zero quindi non guardo i prezzi delle cose che non significa alla fuffa guru ah quando la ristorante non guardo ma significa ho completa fiducia delle mie capacità di autocontrollo e il mio amore per la frugalità che in genere non devo stargli a guardare i prezzi e prendo tutte le decisioni di lavoro e vario income come se lo stipendio fosse zero quindi decido di fare un lavoro faccio qualcosa lo faccio senza badare i soldi senza badare i soldi in entrata senza badare i soldi in uscita questa è la definizione di ricchezza definitiva a mio avviso quando tu ti muovi nel mondo come se le cose non costassero soldi e le decisioni che prendi attive di lavoro fai delle cose che non pensando ai soldi che guadagnerai qui sei ricchissimo è arrivato alla ricchezza estrema quindi se se mai il mio patrimonio dovesse diventare 120% del target patrimonio per il retirement 120 è poco onestamente 120 è poco se il patrimonio dovesse arrivare al 120% del facchio money allora seguiamo mister money mustache quindi fine delle preoccupazioni sul dover guadagnare soldi quindi qualunque cosa uno fa la fa per il puro gusto è ok ritirare soldi dal patrimonio e restare in questa fase finché non si torna sotto 100% c'è anche un'isteresi in questo tra questi due stati dovesse soltanto la campanina non siamo più financial independent allora si torna nella fase self sustainability mi piace questa macchina stati e se mai invece il patrimonio dovesse andare oltre il doppio dei soldi di quelli che mi basterebbero per vivere tranquillamente si entrarebbe nella fase che sono i soldi ah ok avevo splittato il what's income quindi prendere le work decision come se la paga fosse zero ma non avevo ancora messo make all spending decisions as if the price were zero questa seconda parte di non guardare quanto costano le cose è qualora raggiungessi il 200% adesso andiamo ok va bene perfetto filosofia di investimento cioè in cosa si investe in cosa investiamo questo era 2017 investi principalmente in stocks in azioni maggiore del 50% in secondo luogo in bond minore del 30% può darsi real estate non più del 15% potrei considerare altri asset class come P2P lending meno male che non l'ho fatto o angel investing quindi in realtà intendevo dire private equity interessante interessante quindi un asset allocation 60-40 non andava bene per la mia filosofia 40 di bond era troppo max out stocks investment a 100% fuck your money se la mia asset allocation dice 60% stocks una volta che il 60% del net worth è uguale al fuck your money allora non over investire in stocks molto interessante molto interessante cioè se avessi 5 volte i soldi che mi servono non starei investendo in stocks ma avrei detto ok c'è un cap so perché non so perché l'ho detto c'è molto strano take extra money out of the market ready to be investing in case of market drop male male ero giovane ero giovane andrea accio mi chiede rip come scegliste i percentuali 30% max bond perché bella domanda erano percentuali un po' a tentativo di misurare la mia risk aversion cioè mi sono sempre sentito abbastanza coraggioso ma non troppo e quando ho scritto questo documento l'ho scritto nel 2017 che già avevo accumulato un po' di soldi non ero un ragazzino senza una lira all'inizio della carriera andavo già per i 40 e avevo già probabilmente un patrimonio di 6-700 mila euro quindi questo va tenuto in considerazione perché a mio avviso l'asset allocation cambia a seconda del tuo momento della vita e anche della tua ricchezza se avessi 100 milioni forse valuterei altre cose se avessi 100 euro forse valuterei gratta e vinci o 200% stocks in leva quindi onestamente cambia qualcosa oggi è diversa la mia asset allocation in realtà matcha questi numeri però è diversa quando ho scritto questo documento avevo un patrimonio che era circa meno di metà quello che ho adesso lavoravo in google non ero ancora bollito e guadagnavo molto spendevo piuttosto poco e e quindi avevo una propensione a rischio molto alta quindi mi avanzavo un sacco di soldi ero convinto che in ogni caso l'avrei guadagnati quindi non avevo bisogno di soldi di non avevo così paura di perdere capitale nel breve periodo e quindi volevo essere esposto essere sovraesposto a stocks la mia base mentale era 60-40 però quello per me era un portfolio da vecchi un portfolio da boomer e quindi volevo andare più verso un 80-20 questo era un po' l'obiettivo 80-20 ok e quindi 80-20 vuol dire che questa filosofia più o meno c'era cioè volevo difficilmente scendere sotto il 50% in stocks e difficilmente andare sopra il 30% in bond consideravo ancora possibilità di investire in real estate e per un po' ho fatto sia avendo un pezzo di real estate fallimentare che comprando dei rate al momento non lo sto facendo non escludo la possibilità che un domani lo rifaccia questa parte qua è molto molto caga sotto vuol dire che se avessi raggiunto percentuali abbastanza alte di patrimonio rispetto al fuck you money non avrei continuato a mantenere la set allocation prefissata ma avrei messo un cap alle stocks con il massimo stocks investito 100% del fuck you money quindi avessi vinto la lotteria da mille volte il fuck you money avrei comunque investito solo una piccola parte in stocks però in realtà il resto ti avrei messo ok investire in stocks che vuol dire stocks individuali no buy and hold low cost etf dove lo mettiamo ci arriviamo ci arriviamo quindi intanto buy and hold quindi non non cercare di fare timing del mercato non fare stock picking o quantomeno stock picking sempre buy and hold non fare trading short term questa era parte della filosofia extra invest if possible if the market crashes quindi se il mercato cresce restare investito eventualmente anche investi extra se il mercato cresce che è un po' di timing the market però è quando il mercato cresce se uno ha della liquidità buttarla dentro non piccolo pochino pochino low on costs altro criterio fondamentale costi bassi costi bassi per costi intendo tanti tipi di costo non soltanto i costi degli investimenti anche il costo di effort nel senso che fare value investing è una cosa che non repello value investing fare trading un po' sì fare trading da cameretta non fare trading istituzionale ho amici conosco tanti trader ma il trader da cameretta il trader da corso da fuffarolo quello no lo repello mi fa schifo però invece il value investing è una cosa che ho sempre stimato quello che fa pietro michelangeli quello che fa il nemico julien quello che fanno tante persone che conosco quello che fa warren buffett value investing è figo però è molto effort quindi quello è molto costoso vale la pena voglio andare in quella direzione la risposta era non voglio andare in quella direzione ho tante passioni nella vita voglio giocare i miei board games quindi non voglio passare la vita ad analizzare bilanci di aziende e quindi ho detto low on cost bla 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 quindi no individual stock picking anche se super low cost ma troppo effort in questo spettro di quattro quattro livelli di granularità cost effort il più costoso il più high effort low cost è individual stock picking quindi uno può comprare fare il value investor a costi molto bassi ma molto effort no opposto dello spettro robo advisor zero effort però relativamente costi relativamente alti non single award etf medium cost low effort yes a suo tempo diversificare manualmente su regional index base etf quindi un po' us un po' europe un po' emerging un po' pacific questo era il mio punto d'equilibrio nel 2017 l'ho mandato un po' a puttane nel 2000 ma rapidamente nel 2019 e sono passato verso quest'altra ancora meno effort con però altre forme di diversificazione la prima versione fatta nel 2017 avevo iniziato a investire da poco e quindi mi ero posizionato su questo su questo punto dello spettro cost effort ovviamente qui sarebbe da aggiungere no active investing no no active fund management ma era ovvio ovviamente era ovvio aggiungiamolo retroattivamente definitely no actively managed investing che significa financial advisor active funds ok su questa parte qui non so neanche mai preso in considerazione poi evitare investire in settori specifici quindi non è mai piaciuto investing in sectors che vuol dire gente che dice ah questo è tf green energy questo è tf car manufacturer questo è tf financial i settori e anche i teams aggiungiamo o anche se mi piace or themes travel consumer goods technology financials clean energy sto modificando non mi piace modificare retroattivamente un documento vecchio quindi in genere sconsiglio sempre sconsigliato investire in settori quindi anche nasdaq nasdaq in genere nasdaq interessante nasdaq non è un settore nasdaq è un exchange i titoli quotati sul nasdaq hanno in realtà è difficile anche tirar fuori una caratteristica in comune in genere si associano titoli più tecnologici che non significa niente sul nasdaq ci sono anche titoli che non sono tecnologici si associano in genere sul nasdaq i titoli gross ma non tutti i gross stanno sul nasdaq quindi in realtà nasdaq è solo una exchange è come prendere i titoli che cominciano alla lettera A non compro un etf di stocks che cominciano alla lettera A l'avessi fatto vent'anni fa con amazon e apple sarebbe stato figo ma non l'ho fatto quindi per me nasdaq non significa nulla significa che vuoi esporti a gross ci sono etf che tracciano growth vuoi esporti a it a informatici come si chiama a computer technology ci sono etf settoriali che tracciano information technology nasdaq di per sé non ho mai investito in qqq o altre cose o forse l'ho fatto per un po' all'inizio stavo sperimentando facendo cose a caso quindi per l'inizio ho investito in un in un tecnologico in un etf tecnologico non era qqq vabbè qualità 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 nella mia filosofia ripeto l'ho un po' cambiata in realtà ad oggi tollererei non lo faccio però a chi mi arriva e mi dice rip ma voglio io credo nell'energia rinnovato credo nell'esg nell'etico green bla 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 ok va bene può essere un po' sovraesposto un minimo però ragionevolmente il 90% del tuo investimento deve sottostare a filosofia base solida senza opinioni senza emozioni può avere un 10% che un po' è guidato dalle emozioni quello si quindi vuoi ti piace l'etf clean energy fallo ma investici un 2% e basta è fuori dalle balle nella mio IPS avevo indicato mi sa che oggi facciamo solo la lettura di questo IPS accettare un po' di territorial home bias cosa vuol dire vuol dire che investire più pesantemente heavily un po' troppo nel mercato su cui vivo in realtà non è il massimo oggi ho un po' rivista questa cosa ho un po' rivista questa cosa qual era il principio per stare al passo con la local currency con l'inflazione locale e la situazione economica locale il che vuol dire dico sempre se tu ti disaccoppi con i tuoi investimenti dalla economia in cui vivi c'è il rischio c'è il rischio che magari tu performi molto bene mentre il mercato locale va male e là è figo può essere figo essere quello che ha fatto i soldi investendo in dollari mentre viveva in turchia in lire turche però c'è anche il rischio opposto che se il mercato locale schizza in alto e tu sei troppo investito fuori hai perso valore e quindi è un ulteriore disaccoppiamento è una come direbbe benjamin felix ha un uncompensated risk quindi stai prendendo una varianza extra del dipendere dal mercato parlo di mercato non di currency dal mercato dove tu non vivi e quindi potresti trovarti essere l'unico povero in un'azione che va bene siccome negli investimenti a lungo termine per obiettivo pensionamento early retirement tu vuoi evitare che in quei rari casi in cui il piano va male ti becchi anche delle mazzate non vuoi aumentare il numero di worst la soglia del worst case scenario mettiamo in cui tu ti accoppi fortemente col mercato locale cosa accade che se le cose vanno male in quel 2-3% di casi non pianificati in cui le cose vanno male vanno male per tutti quindi stai in un mondo in cui tutti stanno male che magari può significare che lo stato chiede aiuti che dà cibo gratis credo che nella pianificazione del stare nel 95% di successo finanziario vuoi che in quel 5% stanno male anche gli altri attorno a te credo però era un'opinione un'opinione l'ho ritoccata adesso non faccio home bias territoriale in realtà sì perché molti fondi pensione pure che vado manualmente a investirli meglio hanno una forte tendenza a investire in asset svizzera e quest'anno è un po' pesato un po' underperformato da questo punto di vista perché la svizzera andava un po' peggio rispetto al resto del mondo e quindi peccato potessi non avere più home bias ho cambiato questa idea però vi ho spiegato il perché ce l'ho avuta quindi accettare territorial home bias evitare professional home bias mi piace mi piace questo qui mi piace perché l'ho detto quando ho scritto questo documento io ero fortemente convinto che starei lavorando in Svizzera ma avrei mi sarei ritirato andando in Italia quindi tenevo a mente il mercato italiano come riferimento di povertà però non volevo investire troppo nel mercato svizzero in quanto se le cose vanno male nel mercato svizzero mentre sto in fase di accumulo uguale nel commission phase avrei una difficoltà ad accumulare ok che significava professional market non soltanto geographical ma significava azienda in cui lavoravo quindi evitare tech investments e ancora maggior giorno evitare di tenere google stocks non lì l'ho fatto perché se google andava male perdevo sia il lavoro che i soldi in generale non accoppiarmi troppo al settore su cui sto lavorando e via ok spero che si sia capito ok per diversificare cioè evitare che far sì che un crash nella tech industry sarebbe stata una doppia perdita sia il lavoro che gli investimenti in teoria avrei non l'ho mai implementato avrei dovuto non so forse un po' shortare il nasdaq mentre investivo su tutto il resto oppure investire su 50% world 50% world excluding technology però diversificare evitando di prendere una doppia mazzata se il tech va giù ottimizzare per tax efficiency su piccole variazioni di costi interessante interessante ero molto più saggio scrivevo molto meglio ero molto più saggio allora dovrei forse riascoltare il me stesso di tempo fa con delle piccole modifiche ottimizzare per tax efficiency comparato a piccole variazioni di ter quindi ok scegliere gli etf col costo più basso però vedere anche a tax efficiency quindi se sono a distribuzione se sono ad accumulo se sono domiciliati in in america se sono domiciliati in irlanda se l'autorità svizzera li classifica ad accumulo o no perché alcuni etf ad accumulo venivi tassato su un dividendo virtuale altri no dei piccoli tax efficiency trick battevano una variazione contenuta di costi difficilmente 0,2% avrei scelto un fondo attivo solo perché era un po' tax efficient ma pagargli l'1,5% di costi l'anno non aveva senso preferire distributing over accumulating etf dato i tessi costi e tax conditions interessante interessante non so perché don't do dollar cost averaging interessante e qui linko una serie sulle stocks di JL Collins chi non lo conosce è l'autore di The Simple Path to Wealth che cito spesso e qui si apre la diatriba dollar cost averaging versus lump sum investment che non apro questo vaso di Pandora però questa l'ho cambiata nel tempo e ad oggi chi mi arriva a chiedermi aiuto gli straconsiglio devi andare con calma a fare dollar cost averaging ok dollar cost averaging significa se ho da investire una certa quantità di soldi li investo un po' al mese per n mesi e non investo tutto subito ovviamente nel caso di accumulo lungo la tua vita ti troverai per forza di cosa ad avere dei risparmi mensili e quindi un po' di soldi li fai per forza dollar cost averaging non è tutti i soldi al inizio inizio a investire e ho già i soldi tutto il malloppo però dovesse arrivare un'eredità un bonus e così via la filosofia era butta tutto subito e non dividere nel tempo durante la fase di accumulo investi ogni mese usa i soldi del mese per fare rebalance quindi evita di vendere per fare rebalance perché vendere è un evento fiscalmente fastidioso costoso per trade fees quindi usa i monthly risparmi 5000 questo mese mettili dove l'asset allocation ti dice che mancano ovviamente in caso di un market crash in cui c'è da fare una rebalance maggiore di x allora a quel punto vendi e ricompra però è successo raramente tieni traccia di asset allocation reale e ideale e cerca quindi di ridurre la distanza quindi metti i soldi di risparmio mensile laddove il tuo spreadsheet ti dice che devi fare per ridurre i trading fees definisci un quanto di investimento e non investire mai meno di quel quanto ora con i trading fee molto bassi questo potrebbe non aver senso però in realtà un po' senso lo ha cioè non investo 100 dollari in un ETF che magari mi costa un dollaro di trade non ha senso il mio quanto di investimento a suo tempo era forse tipo 10.000 dollari quindi ogni 10.000 dollari facevo un pacchetto di azionario fisicamente un pacchetto non di meno e poi qualche volta puoi abbandonare i investimenti mensili se devo per caso pagare grandi spese come viaggi eventualmente una macchina non è successo e così via ogni 6 mesi un measure e balance quindi anche vendendo e ricomprando eventualmente tieni in mente no stocks above 100% chi ci è mai arrivato e usa il measure e balance per rivedere questo documento ok statisticamente l'amp sum è meglio sì 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 però dipende cosa devi massimizzare se hai a che fare con robot io ho ultimamente aiutato persone che non riescono a stare con l'asset allocation definita cioè che hanno paura ogni 3 mesi ogni mese chiamano ah ho vendito ho fatto questo ho fatto quell'altro persone così non possono fare azioni così dure come prendere e investire un'eredità tutta in un momento con un click ma devono farlo su due anni io devo dire due anni a chi ha un'eredità a chi ha fatto a chi sta iniziando a investire tardi e ha da parte un bel po' di soldi in genere tra i 6 mesi e i 2 anni è il tempo con cui consiglio di entrare nei mercati anche perché se dopo 2-3 mesi ti rendi conto che hai palpitazioni non riesci a gestire le fluttuazioni è meglio che lasci perdere ti fermi lasci perdere sei stato 3 mesi dentro tiri fuori i soldi sotto il materasso e via è un buon modo anche per allenare tutti gli aspetto behavioral via permettendo che spesso l'ottimizzazione matematica va a braccetto con l'ottimizzazione emotiva no quanto la tua emotività prevale sulla tua strategia non sono convinto che l'ottimizzazione matematica ottimizzi anche emotivamente se sei un robot si se sei un umano la ottimizzazione matematica ti dice che dovresti investire tutto subito in un tangent portfolio di che segue factor investing se però sei una signora di 60 anni che non ha mai investito è morto il marito e si trova 2 milioni non fai quello non fai quello te lo dico io non lo fai se sei un 92enne che ha preso un fondo pensione non fai quello quindi un po' complicato però adesso la domanda è interessante quanto la tua emotività prevale sulla tua strategia inizialmente ero molto emotivo ho fatto un paio di gesti emotivamente guidati di cui mi sono pentito e in genere vendi tutto e in genere vendi tutto quando i mercati stanno all time high quindi un paio di volte ho venduto tutto quando i mercati erano alti e una volta poi sono crollati ero contento la seconda volta sono continuato ad andare su per cui poi ho rosicato e sono rientrato piano piano quindi ho fatto scelte emotive sbagliate però complessivamente sono 7 anni 7 anni che sto dentro investimenti con soldi veri onestamente penso di starmi comportando piuttosto bene e sto imparando ad oggi che ho il patrimonio investito più alto che ho mai avuto esposizione in stocks più alta che ho mai avuto e sto vivendo una fase di fluttuazioni quest'anno è stato forse il peggior anno di investimenti della mia vita mi rendo conto che sono abbastanza stoico cioè non sto facendo nessuna cazzata anzi se non altro sto poco curando i miei investimenti però va bene sto facendo l'investitore morto quanto eri esperto nella materia quando hai scritto questo IPS in alternativa quanto credi bisogna dedicarsi allo studio prima di scriverne uno ed applicarlo eh beh io esperto non lo so non sono esperto chiunque studia finanza dice che io sono un cialtrone perché non ho una formazione non ho una delle basi formali però penso che ho delle basi matematiche o conosco sono financially literate e ho letto tantissimo a riguardo non ho una formazione formale però ero moderatamente esperto come dire ero in grado di gestire da solo il mio patrimonio magari non in maniera ottimale però distante dall'ottimo molto di meno di quello che costa un financial advisor quindi se tu sei una capra totale i soldi tieni sotto il materasso oppure li investi in tesla stocks allora lì vai da un financial advisor ti costerà l'uno e mezzo per cento però tu stai effettivamente male che il delta ti conviene se però sei abbastanza bravo emotivamente solido non 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 riesci a giustificare un uno per cento uno e mezzo per cento che ti chiede un financial advisor quindi la domanda era quanto bisogna dedicarsi allo studio prima di scrivere un IPS a mio avviso almeno un sei mesi non intensivo ovviamente mentre fai altro nella vita però studiando le giuste sorgenti e ascoltando confrontandoti con gli altri un sei mesi di teoria un po' di pratica di aver fatto qualche ordine su qualche broker potrebbero essere sufficienti e diceva l'ora sono tantissimi tanto tempo è ma è ma i tuoi investimenti nel corso della tua vita varanno cioè è buona parte del tuo successo finanziario dipende anche dai tuoi investimenti quindi lasciarli delegare questa cosa ti costerà 40% del patrimonio nel corso della vita se pigliamo un 2% di 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 fee che paghi ogni anno se integri per 50 anni ci lasci mezzo patrimonio quindi sono i sei mesi che il te stesso sessantenne ringrazierà di più dire cavolo bravo che hai fatto sto lavoro meno male che l'abbiamo fatto e via quella che era l'asset allocation a suo tempo nel 2017 60% stocks 25 bond 15 real estate questa era molto hard codata ovviamente questa parte qua era quella che sapevo avrei rivisto più più probabilmente era una idea presa a un certo momento nella vita fissata e che era ok potrebbe ancora essere ok però sapevo che da lì a breve avrei rivisto come avevo deciso di allocare a suo tempo i soldi 60% in stocks ci arriviamo 25% in bond e 15% real estate ovviamente questo qui scuso cash cash 2-6 mesi finché lavoro tenere 2-6 mesi di living expenses quindi se spendo 5 mila al mese tenere tra i 10 e i 30 mila in cash se non lavoro quindi stiamo in fase di early retirement 1-2 anni di living expense in cash ok considerare cash un asset class che necessita di essere ribilanciata ogni ciclo maggiore nel caso di urgent need of cash in caso di bear market vendere il bond per primo ok era molto vabbè un po' improvvisata nel mondo stocks ha fatto diversificazione manuale di territoriale non posso ridere non posso ridere america 25-60 europa 25-60 un po' di sovraesposizione geografica 5% pacific 5% emerging ok ok vabbè l'ho rivista ovviamente sui bond ero abbastanza ignorante ancora un po' lo so non sono mai schillato sui bond semplicemente consideravo tutti i pilastri pensionistici quelli a capitale garantito che adesso non ci sono neanche più in Svizzera li consideravo bond ritornavano ritorni piccoli ogni anno tra l'1 e il 3% li chiamavo bond e poi avrei preso un po' di government e corporate bond local market sui bond il home country bias è ancora più ragionevole e poi un po' forzato dal fatto che avevo una casa ho messo in asset allocation casa e eventuali rental property non avevo aggiunto neanche rate ok altre cose che avevo scritto finché sto in Svizzera massimizza tax deduction con pillar 3 e pillar 2 buy in vedere il limite sul pillar 2 buy in che non è allocato per 3 anni che è 12.000 al cantono Zurigo non prendere in considerazione il primo pilastro adesso lo prendo in considerazione e non far finta che non avrò mai alcuna eredità tuttora faccio finta che non avrò mai eredità però domani potrebbe arrivare qualche eredità fa piacere però con questa asset allocation dormi tranquillo o c'è qualcosa che ti turba? no dormo tranquillo non ho tempo di pensarci non ho tempo di pensarci poi al momento più invecchio più sono tranquillo perché mi rimane meno da vivere e quindi poi mangio male in grasso per cui forse vivrò di meno il che aumenta le possibilità di successo della mia asset allocation non ho paura in questo momento ma non ho mai paura non ho mai paura che le cose vadano male cioè non ho mai avuto istinto di vendere quando le cose vanno giù velocemente però la fluttuazione mi dà troppa dopamina cioè mi fa dire cazzo oggi meno 20.000 cazzo oggi più 20.000 in entrambe le direzioni quindi onestamente con la volatilità la sento un po' mi pesa supporting family member wow 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 quanta roba quanta roba supporting family members questo fu veramente un bel l'ips lo scrissi con con molta con molta gioia con molta gioia supporting eventual children eventual pagare la loro educazione fino al master anche qui è molto generico non sapevo cosa cazzo significasse essere genitore ora le domande che mi pongo sono diverse ha senso fargli fare il nido ha senso far fare scuole montessoriane che costano fino in tarda età ha senso cioè qual è il mio dovere verso i miei figli non ho mai elaborato su questo qui non dargli uno stipendietto ma fa sì che facciano dei lavoretti per casa per guadagnare soldi forse questo non dovrebbe neanche far parte di un ips insegnare loro financial skill spendi di meno guadagna di più sii frugale risparmia investi sii libero libera e incoraggiare ad essere indipendenti e lasciar via levarsi fuori dalle palle il prima possibile ciao figlie mie guardate questa roba fra dieci anni scherzavo però dai 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 eventualmente supportare altri parenti se c'è bisogno se c'è fai la scuola montessorita ho risolto il double spending di cosa double spending che spendo il doppio preparare le mie finanze per la mia morte ok porsi come obiettivo lasciare una porzione significante significativa della mia realità per un greater good angel investing charities progetti che di cui io ho cura andare su marte sì moddo i soldi Elon Musk per andare su marte però ero proprio giovane ero un sognatore ero un sognatore ah sempre figlie mie che guardate questa live fra dieci anni ma no ma scherzo tutta eredità tutto per voi ragazzi ah in generale e lasciare abbastanza ai miei figli e all'eventuale vedova bello questa è preparare le mie finanze per la mia morte attesa tipo se so che sto per andare a morire preparare le mie finanze per la mia unexpected death è un po' più profondo fare un testamento e avere una life insurance dopo che quella di lavoro finirà al momento sono ben coperto da assicurazioni sulla vita lavorative e aggiungerei un documentare bene cosa ho e dove in modo che chi deve gestire i miei soldi si trova all'improvviso da doverli gestire e via e quello lo sto facendo con canale youtube quindi cara moglie che guardi questa roba dopo che sono figlie che sono schiattato adesso sappiate che basta andare online e trovate tutto problemi aperti visto che probabilmente torneremo in italia per il retirement cercare di capire investment opportunis e tax implication there ci pensiamo eventualmente capire un po' come funzionano le tasse capire business di rental properties vedere come si lancia la zia lascia perdere perso la corsa della vita di dare questa robaccia in realtà questo IPS questo investor policy statement del 2017 mr.rip slash IPS trattino dash 2017 in realtà due anni tre anni dopo lo annullai con un update di fine 2020 in cui rivedevo buona parte della mia della mia della mia strategia reassess risk aversion determinare time horizon assess my ability to understand the market swallow my pride idea asset allocation first draft of a same strategy ho un po' riscritto la mia asset allocation è un po' dei posti più lunghi che ho mai scritto penso che se lo lo scrollo tutto quanto si la barra vedete a sinistra quanto fama e french fama e french fama e french questo tipo è uno dei posti più lunghi che ho mai scritto eppure più commentati ci fu una bella discussione lunghissima discussione nei commenti quando scrivo sul blog e ero giunto più o meno a quella formula che ho usato fino ad oggi in teoria stasera dovevo cambiare tutto quanto rivoluzionare tutto quanto non ho fatto una mazza succede quindi quindi cosa farò credo che più o meno l'attuale asset allocation non mi dispiace vorrei rivedere le formule per modificarla non penso di introdurre nuove asset class penso di restare su una strategia che è basata su factor investing penso di restare agganciato al value factor più del growth factor forse forse a lungo stocks bond al momento sono 80 20 è un po' sbilanciata però non sono sicuro che voglio cambiare questa roba qua vorrei fare un ragionamento un po' sul lungo termine gli investimenti finanziari perché piano piano ci siamo accontentati nella narrativa che ci dobbiamo aspettare ritorni più bassi sempre più bassi tutte le stime sull'early retirement sono cambiate con Ben Felix che dice 2,7% safe withdrawal rate long term stocks investing basso basso inflazione alta è certo così un po' fa cascare le palle e quindi volevo un attimo vedere se è il momento giusto in realtà per investire in attività proprie anche se anche se la mia età con le cose che sto già facendo però questo è il momento in cui forse se fossi un giovane ancor di più investirei su me stesso ancor di più investirei su me stesso non so bene come formulare però non sono giovane per cui parlando a me stesso non sono convinto che seguirei questo mio consiglio grazie a tutti